Ecco, raccontiamo il gruppo Saida che cos'è e cosa fa e come mai ha deciso di essere presente qui a Olio Officina Festival 2024? Il gruppo Saida è il leader nella distribuzione di vetro cavo in Italia, quindi ci occupiamo della distribuzione di bottiglie, vasetti e quant'altro, dedicandoci a tutto il comparto agroalimentare italiano. Abbiamo otto sedi in Italia, o meglio, otto società all'interno del gruppo, dieci magazzini con cui serviamo l'intero territorio nazionale e il secondo anno siamo presenti a Olio Officina e abbiamo rinnovato la fiducia a questo evento perché lo riteniamo tra i più importanti nel mondo del packaging design, soprattutto nel settore oleario, ovviamente. Ecco, qual è il vostro impegno nel settore oleario? Che percentuale copre di quello che è il vostro impegno? Beh, sicuramente parliamo di una percentuale relativamente alta, intorno al 15% del nostro fatturato viene fatto intorno al mondo dell'olio, prevalentemente con la distribuzione di bottiglie standard e da qualche tempo anche con diverse bottiglie personalizzate da clienti oppure con la nostra nuova linea Horizon.